Sei nuovi treni elettrici in servizio da lunedì sulla linea Bari-Putignano via Casa Massima dal 26 aprile viaggeranno sulla tratta sei nuovi treni elettrici in più e diminuiranno le corse bus con benefici per l'ambiente. Saliranno a 52 collegamenti giornalieri tra le due città e si viaggerà su una linea moderna dotata di un sistema di sicurezza che permetterà di risparmiare 20 minuti. La novità del nuovo orario sarà il cadenzamento delle partenze per facilitare il viaggiatore nella memorizzazione degli orari e nell'organizzazione dei suoi viaggi, un treno ogni mezz'ora nelle ore di punta nella tratta tra Delfi e Bari e un ogni ora tra Bari-Putignano. 46 corse su 52 saranno effettuati dagli 11 nuovi treni elettrici acquistati da Ferrovie Sud-Est insieme a Regione Puglia. I nuovi convogli sostituiscono quasi totalmente la flotta di treni diesel con grandi vantaggi in termini ambientali. Sono più comodi e facilmente accessibili, offrono 175 posti a sedere, comprese due postazioni per viaggiatori a ridotta mobilità, quattro spazi portabici, una toalette e scaffali per i bagagli, tre servizi a bordo, display per le informazioni, pedane mobili, prese elettriche per ricaricare pc e cellulari, videosorveglianza, climatizzazione e sonorizzazione. Sui treni infine si potranno trasportare gratuitamente monopattini e bici.